Un poster all'ingresso della città di Penne per rendere omaggio agli operatori sanitari del San Massimo che in prima linea hanno combattuto il Covid-19, un tributo dovuto a chi in questi mesi ha retto l'impatto violento del Covid-19 mostrando, se mai ce ne fosse stato bisogno, l'importanza dei presidi spedialieri periferici. Tra le foto anche il sindaco Mario Semproni, prima vittima del Covid e poi in prima fila a combatterlo. Esattamente, questo è uno spazio che normalmente viene occupato da immagini che artisti, fotografi realizzano. In questa occasione invece lo spazio è stato dedicato in occasione appunto dell'epidemia Covid a chi ha prestato il proprio operato per salvaguardare la salute dei cittadini dell'intera area vestina e devo però precisare che le immagini che voi vedete non raccolgono tutti quelli che hanno dato la loro opera e che si sono impegnati perché per esempio guardando bene le immagini non trovo i colleghi della rianimazione i quali ovviamente erano così impegnati nel prestare la loro opera di soccorso a queste persone che loro curavano e quindi manca un pezzo fondamentale e importante ma io ci tengo a dire che c'erano e ci sono anche loro. Ecco sindaco, l'auspicio che presto questa parte di mura della città di Penne torni presto ad ospitare fotografie felici che riguardino le bellezze di Penne e dell'area vestina. Sicuramente questo è il mio sogno, il mio desiderio perché vorrà dire che avremo superato l'emergenza però io voglio sempre raccomandare ai cittadini di Penne ma ai cittadini anche dell'intera area vestina che queste immagini devono essere immagini che devono ammonire chi invece crede che il Covid sia soltanto così un qualcosa di passaggio già superato ed evita di portare quei presidi che invece sono fondamentali tipo le mascherine e i guanti.